Siamo partiti un po' dal concetto che è stato espresso dal Presidente del Consiglio di inclusione, cioè l'impegno del Governo in favore dell'inclusione, soprattutto delle fasce più deboli della popolazione. Su questo tema si è elaborato molto, poi naturalmente si è scesi anche a quelli che sono gli strumenti che permettono questa inclusione. Anche il tema della migrazione è stato uno dei temi che si sono discussi, soprattutto nel senso dell'integrazione. Noi abbiamo insistito molto perché ci sia una visione, una politica di integrazione, sapendo quanti altri problemi ci sono. E anche riconoscendo questo aspetto importante, cioè che il problema deve essere assunto da tutti. Ecco, questo è uno dei punti sui quali il Governo italiano ha tanto insistito. E' sempre un punto sul quale la Santa Sede pure ha sempre detto che non è il problema di un Paese, è il problema di tutta l'Europa, è il problema anche più ampio dell'Europa.